Gli studenti dell'isola frequentanti le scuole di ogni ordine grado, i corsi di formazione professionale in obbligo scolastica e le fondazioni ITS dovranno tornare in classe il 10 gennaio 2022, questo quanto stabilito dall'assessorato all'istruzione e formazione professionale della regione siciliana, d'intesa con il presidente della regione Nello Musumeci e con il DASO e dell'assessorato alla salute, in variazione a quanto previsto dal decreto assessoriale numero 1187 del 5 luglio 2021, che indicava 10 giorni di vacanze dal 23 dicembre al 6 gennaio, con rientro quindi il 7 gennaio. Una decisione presa in seguito alla riunione della conferenza delle regioni, in esito alla quale è emersa l'esigenza di acquisire uno specifico parere del CTS nazionale, spiega l'assessore Roberto Lagalla, che in relazione all'andamento della pandemia sia in condizione di escludere una possibile ed eventuale ricaduta negativa sulla riapertura degli istituti scolastici. Alla luce dell'attuale quadro epidemiologico, aggiunge inoltre, durante la riunione è stata fatta presente anche l'esigenza di una revisione delle procedure di tracciamento dei contatti scolastici, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei controlli sanitari e di gestione delle quarantene. La regione siciliana, infine, conclude l'assessore Lagalla, nel condividere la posizione dei rappresentanti regionali in attesa del parere richiesto al CTS, ha perciò ritenuto di uniformare il proprio calendario didattico a quello delle altre regioni italiane.